Mi sembrava giusto e un bel gesto raccogliere l'invito del sindaco Sala e del Partito Democratico di Milano che è un segnale molto chiaro di vicinanza e sostegno innanzitutto al nord, a Milano e al nord che in questo momento sta vivendo una fase molto molto difficile. Bisogna sconfiggere il virus ovviamente seguendo la scienza, seguendo le indicazioni che sono state fatte e date bisogna isolare ovviamente i focolai ma non bisogna distruggere la vita o diffondere il panico e quindi dare dei segnali anche di ripresa, di rilancio, di responsabilità che in questo momento è giusto dare. Ora la cosa più importante è riaccendere l'economia del Paese, riaccenderla con misure straordinarie ma la prima misura straordinaria è ricreare fiducia, ricreare speranza, ricreare collaborazione ricostruire tutte le condizioni economiche, sociali, politiche per riaccendere i motori dell'economia e non aggiungere al tema del virus e anche preoccupazioni dal punto di vista sanitario le preoccupazioni dal punto di vista economico e poi quindi sociale. Quindi ora bisogna seguire la scienza, il governo fa bene a varare e lo farà entro la settimana le prime misure nel campo economico ma poi spetta a tutte e a tutti ora collaborare. Noi vogliamo stare lontani dalle polemiche e vicino alle persone perché io sono convinto che l'Italia ce la farà. Sconfiggeremo il virus e ci rimetteremo in moto, però faccio un appello, collaboriamo tutti ed era giusto che il segretario del Partito Democratico questa sera venisse a Milano per, ripeto, raccogliere un invito giusto e corretto che è molto combattivo e che noi sentiamo nostro.